Pensavamo che non avrebbe più respirato. Allora? Mi dispiace. Che significa? Il suo cuore è debole. Temo di non poter fare nient'altro. Oh, no, 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 no. No, no, Nili, vita mia. Ti prego, respira, figlia mia. Ti prego. Respira. Respira. Viaro? Respira. Sì. Respira. Vieni con me. Figlia mia, ti prego. Ti prego. Capisco il tuo dolore, ma ci sono delle decisioni da prendere. Non credo che resisterà molto a lungo. Sì, certamente. Conosci la tradizione. Il rabbino Giuda dice che anche il più povero di Israele deve assumere almeno due flauti e almeno una prefica che pianga per il defunto. Tu dimmi solamente quanti sono i flauti e le prefiche che puoi pagare e io mi occuperò del necessario. No. Iaro, mi dispiace, ma ti prego, non fare niente prima che muoia. Io tornerò presto. Ti prego. Mia figlia sta morendo. Mi dispiace tanto. Ma se tu vieni e imponi la tua mano su di lei, allora vivrà. Tu non mi hai mai incontrato. Eppure hai così tanta fede da credere che io possa guarirla. Io so chi sei. Ti prego. Portami da lei. Adesso noi rubiamo altro tempo. Michale è assieme al suo corpo. No! No, io ho cercato Gesù. Ho fatto più in fretta che potevo. Non devi temere. Abbi solo fide. Lei starà bene. Iaro. Iaro. Andiamo dentro. Tu resta qui. Noi andiamo. Lei starà bene. Ora smettetela. Vi ho detto di smetterla. Che state facendo? C'è una ragazza. È morta. Andate via. La fanciulla non è morta. Sta dormendo. Che cosa avete da ridere? Ha detto che sta solo dormendo. Che cosa crudele da dire. Lo sapete con chi state parlando? Se fossi parte della famiglia ti farei salire solo per mostrarti che è morta davvero. Che cosa sei? Un negromante. Ti dovresti vergognare per la cosa che hai detto. Tutti quanti fuori. Lo avete sentito? Ragazzi, accompagnate tutti fuori. D'accordo. Tutti fuori. Andate. Tutti fuori. Tu adesso apri bene le orecchie. Andiamo. Lasciamoli soli un momento. Fuori. Scusate. Michal. Dov'eri finito? Stavo cercando quest'uomo. Lei è morta e tu non c'eri. Perché ci hai lasciate qui da sole? Credi in me, ti prego. Credi in me. E credi in lui. Che cosa? Che cosa vuole fare? Ti prego, ti prego, ti prego. Lo so. No. No. Sshh. No. 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 No! Che cosa le sta facendo? Grazie, ragazzi! Fanciulla mia, ora alzati! Nili! Nili, piccola mia! Dio, grazie! Ti sono bella! Ti sono bella! Marta, Marta, Marta! Oh, mio figlio! Grazie! Oh, so great!